Animali animali, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo nel primo tutorial di Minecraft, legato ovviamente alla mia serie principale vanilla insieme ai mates, la mates in Minecraft, dove appunto per le semplici farm o per cose comunque non molto complicate, ho deciso di fare dei mini tutorial per farlo appunto in modo veloce, per appunto insegnarvi in pochi minuti e non annoiarvi in un episodio lunghissimo. È veramente semplicissima, come potete vedere questi sono gli oggetti che verranno utilizzati per questo tutorial, ovviamente una chest normalissima, una tramoggia che si fa con appunto 5 pezzi di ferro fatti a V e una scatola, al centro ovviamente la scatola, qualche pezzo di stone o qualsiasi materiale voi vogliate, una slab, due genci per inciampo che appunto sono semplicissimi anche questi di fare con un pezzo di ferro in alto, uno stichettino e un blocco di legno in basso, un blocco sonoro che è fatto come una chest normalissima ma al centro c'è un pezzo di redstone, una cordicella che si prende dalle ragnatele o dai ragni, un pezzo di redstone, una botola di ferro e un secchio d'acqua, quindi tutti materiali facilmente reperibili in fretta. Come potete vedere qua è già montata e adesso vi farò vedere appunto quanto è semplice farlo passo per passo. Partiamo con mettere una cesta che è dove ci finiranno appunto i materiali, seguiamo da una tramoggia che dovrete stare in shift e indicare la cassa per appunto farci arrivare la roba dentro e aggiungiamo una seconda tramoggia dietro che appunto indica la tramoggia sempre con shift così che si crei un collegamento. Fatto questo prendiamo la slab sempre in shift per metterla qua sopra e ne mettiamo un'altra sotto che sarà questa la pedana dove poi andremo a pescare. Ovviamente questa qua è una farm dove si può stare anche AFK quindi voi potrete fare anche dell'altro al pc mentre la farm continuerà ad andare. Ve lo spiegherò alla fine. Adesso prendiamo la stone, la andiamo a mettere qua sopra sempre in shift sennò vi aprirà appunto la tramoggia e dobbiamo cercare di fare tipo delle ali di gabbiano molto molto semplici. Così, 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 ai lati. Adesso andiamo a togliere questo, questo che stava sopra la tramoggia e quest'altro così abbiamo creato una specie di V. Fatto questo dobbiamo andare dietro, mettere un altro blocco qua perché dovremo andare a mettere la nostra botola di ferro esattamente qua in questa posizione qui. Salire sopra, mettere un blocco di redstone, a questo punto andiamo a prendere i nostri ganci che appunto ne serviranno solo due, ne metteremo uno qui e uno qui con appunto la cordicella che li unirà insieme. Adesso come potete vedere ogni volta che ci passeremo sopra si attiverà la redstone e aprirà la botola. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere il nostro blocco sonoro, qua mettiamo sempre un pezzo di stone, lo mettiamo qua dietro e possiamo anche toglierlo. L'ultimo passaggio sarà appunto mettere l'acqua qua tramite il secchio. Ultimissima cosa da fare sarà quella di mettere un pezzo di slab sopra la botola, se no la farm non funzionerà. In questo modo la farm è esattamente finita. Se adesso andiamo a prendere una canna da pesca per vedere se funziona, voi dovrete puntare esattamente la botola di ferro, che è questa qua dove sto puntando io, e tenere premuto il tasto destro, quindi creerà appunto il meccanismo, aprirà la botola e qui tendenzialmente, aspettando un attimo, vi tirerà fuori del pesce per mangiare, se avrete fortuna dei libri, ma sono anche stivali e tante altre cose. Ok, vediamo se ha pescato e come potete vedere abbiamo pescato una ciotola e un salmone crudo. Un'ultima cosa importante, se non volete sentire il blocco sonoro, quindi le note, basterà mettere anche qua un blocco, una slab sopra e non sentirete più rumore. In questo modo. Ora, visto che abbiamo testato che la farm funziona, vi faccio vedere come rimanere AFK, quindi potrete fare dell'altro tenendo sempre Minecraft aperto, per farmare anche quando appunto non sarete al computer. È semplicissimo, dovrete tenere Minecraft sempre in finestra, quindi voi tenete premuto il tasto destro, premete F11, e poi vi passerà, sempre tenendo il dito sul tasto destro, fare Alt Tab per cambiarvi la finestra. Ora voi non potete vedere, ma la farm praticamente sta continuando ad andare anche senza che io tengo premuto. Il tasto oppure se sto su Minecraft. Tanto qua ha già pescato un altro merluzzo crudo, come potete vedere, e questo è tutto. Come potete vedere, una cosa davvero velocissima e molto utile appunto all'inizio di una vanilla, sia per fonte di cibo che per eventuali libri, libro di fortuna per i diamanti, mending per altre cose per farle ripristinare, eccetera eccetera. Spero che questo mio primo tutorial vi sia piaciuto, animaline male, mi raccomando lasciate un mi piace per supportarle, se ne volete vedere altri legati sempre agli episodi di Mates in Minecraft. Creatore originale della farm lo trovate in descrizione. A me non resta altro che ringraziarvi e salutarvi, come sempre vi potete iscrivervi al centro, guardare altri due video ai lati, e noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals!